Tradizione e modernità, accade qui da Bobo Events, l'inaugurazione, atmosfera magica e tra le stelle. Qualcuno, adesso in altre interviste che abbiamo fatto, mi ha fatto una domanda, ma tu fai una sfida alla Camura? No, io non faccio la sfida alla Camura, io non faccio nessuna sfida. Io credo solo nel territorio, credo nelle istituzioni, credo nei magistrati, nei carabinieri che hanno fatto tanto per me, credo nella gente che mi vuole bene. Sono un imprenditore, per cui già attraverso l'attività, ho messo a lavorare 20 famiglie, ne sono già circa 40 che fanno parte del mio circuito. Vuol dire che sono tanto per la mia città, amo la mia città, non scommerò mai dalla mia città, perché è il mio amore, ci devo credere e ci crederò fino alla fine. La ristorazione è possibile che va forte in Italia, Pozzuoli è la patria e quando c'è persone come te che ci crede deve essere anche un messaggio per le istituzioni. Ma soprattutto, perché io chiedo che le istituzioni devono essere vicino se vuoi fare dei passi forti, perché questo che abbiamo fatto non è un passo forte. L'abbiamo fatto perché comunque le istituzioni ci sono vicine, ci sono vicini i giudici, ci sono vicini i carabinieri, la finanza, la polizia, il sindaco, le istituzioni comunali, ci sono tutti vicini, ci hanno dato una mano e noi abbiamo creduto di loro come loro hanno creduto di me. E per cui essere buon ristoratore sulla zona e fare delle cose per la città fa non solo piacere. Ragazzi bisogna purtroppo avere coraggio, io ho coraggio, poi gli altri non lo so, biati loro che non hanno coraggio. Al Porto hai portato tanti VIP in questa location incredibile, ci dobbiamo preparare a molti eventi. Ci stiamo già preparando, adesso come vedi dall'altra parte già ci sono i preparatori di portiere del Napoli, i preparatori atletici del Napoli che stanno già qua, Niste e company. Per cui qualche giocatore arriverà forse. Parliamo un po' però del menù tipico che assaggeremo qui da Bobo Evento. Allora il menù tipico è un menù che non racconta molto lontano il mare, racconta il mare con qualche sfaccettatura un poco più, ci permettiamo di andare un poco più lontani. Poi magari la cucina tradizionale esiste sempre, nelle righe, ma noi faremo, perché la cucina deve essere con tante cose nuove, se no la gente si scoccia di venire a mangiare. Noi diamo la possibilità di far mangiare il vecchio, ma anche il nuovo. E si può valorizzare anche un'altra parte di Pozzoli perché tutti conoscono il Porto, questa parte qui non è che tutti la conoscono. Questa è una scelta importante perché sul Porto c'era molto traffico, non c'era più parcheggio, qui abbiamo parcheggio, abbiamo spazio, abbiamo potenza di stare in verde, meno stress, si può più ripostare con la mente. C'è una pace interiore e quella esteriore, sperando che tutti ricordano sia in teoremente che in teoremente. Parliamo un po' del vostro gruppo. Sì, allora noi ormai sono vent'anni che facciamo questo mestiere, io lavoro con Peppino Di Capri, sono vocalist di Peppino, ma ognuno dei musicisti è maestro, ormai conclamato e affermato a Napoli. Abbiamo le tastiere Antonio Perna, Gianluca Vitello e Sasa Brancaccio al basso. Spaziamo fra generi, insomma, ci divertiamo così. Ristorazione e musica, mettiamoli insieme, forme culturali. Ristorazione e musica è il connubio perfetto ed è importante che si seguano vicendevolmente, cioè a seconda della tipologia di locale ci vuole una tipologia di musica. Quindi noi, Roberta Bianco Quartet, lo ribadisco, siamo qui appunto per sottolineare la situazione, l'atmosfera a seconda poi dell'atmosfera della serata. Al di là del settore ci vuole sempre anima. Ma questo è fondamentale, non a caso si chiama Soul, perché noi, voglio dire, di questo parliamo. Poi la musica è sempre e da sempre comunicazione. Se tu fai musica bene e non comunichi è praticamente per me inutile. Perché bisogna venire qui da Boboia? Perché la location, vabbè, inutile dirla, l'avete sicuramente filmata, si vede, è meravigliosa, perché la ristorazione ormai è ventennale ed è affermatissima, perché Boboia è troppo simpatico innanzitutto e perché ci siamo noi a coniugare. Un posto magico, c'era bisogno di Mago Edo, chiaramente che è un amico da sempre di Boboia. Da sempre, da sempre, Boboia è un grande amico, un grande amico, conosciuto all'altro ristorante, a Pozzuoli, conosciutissimo. E adesso qui in una realtà ancora migliore, ma Boboia è garanzia di qualità, quindi voglio dire... E lui che è magico, con le persone, quando racconta le sue storie, li incanta, ecco, è come se fosse un prestigiatore anche lui, riesce a rapire i suoi clienti e a farli suoi. Tu qui sarai protagonista, secondo me? Eh sì, sicuramente, sicuramente poi ci sarà qualcosa che farò insieme a lui, perché qui sicuramente si vanno un po' più di festa, c'è un po' più di spazio, quindi la location si presta, si presta sicuramente. Al di là della location tu sei anche un amante della cucina di Boboia? Eh sì, adesso, l'ultima volta che siamo stati, abbiamo mangiato ancora meglio delle altre volte, quindi è un crescendo, quindi è un trend che va in crescita. Ristorazione e magia che connubio è? Ristorazione e magia è... il fulcro è sempre il cliente, quindi la persona, quindi la persona c'è, quindi c'è il buon cibo e magari c'è anche un po' di magia, no? Magia intesa come gioco di prestigio, non magia nera, eh? No, a proposito. A proposito, facciamo un giochino. Vai. Lo mostro a te con questi ritagli di giornale di una rivista di pubblicità. Controlla che sia carta, ecco così, giusto per? Molto, grazie. Bene, devi dare semplicemente un soffio ora. Grazie. Questo è di buon auspicio per Bobo, per suo figlio Gennaro e per questa nuova location. Pozzuoli, Bobo conosciuto in tutto il mondo per la ristorazione, quindi con questo posto magico un tocco in più. Un tocco in più lo dà Bobo con la sua cucina e con questa nuova location. E quindi noi facciamo in bocca al lupo a Bobo, lo salutiamo, salutiamo anche il pubblico da casa e... Al prossimo gioco di prestigio. Al prossimo gioco di prestigio, grazie, ciao. Dove c'è l'evento c'è Enzo Buono, tu riprendi tutto e chiaramente sei accanto a un'eccellenza di questo luogo, di Pozzuoli, dei campi fregrei, conosciuto in tutto il mondo, Bobo. Beh, diciamo che Bobo, oltre che un amico, è veramente un'eccellenza fregrea. Con i suoi piatti ha fatto innamorare molte persone, con il suo ristorante è un punto di riferimento della zona fregrea. Quindi possiamo dire che se Bobo non fosse in campo mancherebbe qualcosa nella gastronomia fregrea. Tu, anche tu, sei sempre in campo, scatti di cronaca, politica, qualsiasi cosa. Questo è un posto che ha cultura sparsa, però è un dato di fatto, la ristorazione attualmente va più forte dell'archeologia. Beh, la ristorazione fregrea è un'eccellenza. Non siamo ai livelli della costiera, ma non per colpa nostra, ne sono tanti, veramente stimabili nel loro lavoro, veramente, come dire, una cucina che si ispira alla storia, alla terra, quindi alla nostra terra, piena di vulcani, con un mare attivo, quindi una cucina prettamente di mare. L'immagine più bella di questa serata? Beh, l'immagine più bella di questa serata sono gli occhi di Bobo, che sono eccezionali. Contentissimo per il locale che ha aperto, quindi un evento a lui molto caro. Grazie mia, sicuramente non potevo mancare, soprattutto perché Bobo è un locale amico proprio, che è un segno giuracale acquario. Bravissimo! Segno giuracale acquario. Che poi dovete sapere che l'acquario è un segno che è legato alle tradizioni, ma è rivoluzionario, è futurissimo. E ha fatto questo locale meraviglioso, che è dove, nel cuore della tradizione budurale, perché siamo vicinissimi all'arco felice, l'arco felice vecchio, praticamente, dove la storia della vecchia Cuma, no? Praticamente aprì le porte a Pozzuole, perché nacque Pozzuole, è venuta proprio per questo ingresso dei greci a Cuma. E lui a Bobo praticamente ha scelto questo posto per rivoluzionare la zona con la sua qualità, con la sua fantasia. È un locale meraviglioso, spazi meravigliosi, sia all'interno moderno, ma sia all'esterno dove veramente si possono avere delle cerimonie straordinarie. Complimenti a Bobo, astrologicamente è molto protetto, molto molto protetto, quindi il mio augurio è che lui possa, in questa location straordinaria, possa coronare i suoi sogni insieme alla sua famiglia, perché sono dei grandi lavoratori, soprattutto. Quanto sono utili imprenditori come Bobo per valorizzare non solo il territorio Fregro, ma tutti i territori? Ma guarda che io non sono putiolano, tu lo sai, però io sono più putiolano dei putiolani, sono innamorato di Pozzuoli e Pozzuoli purtroppo ha un grosso problema organizzativo globale e si mantiene a un certo livello proprio per queste iniziative di grandi uomini singoli come appunto Bobo. Se ci fosse una maggiore organizzazione probabilmente Pozzuoli potrebbe essere la Monte Carlo del Sud per le bellezze che ha. Comunque niente, Bobo è fondamentale, persone come Bobo sono fondamentali perché riescono veramente a creare delle location che sono uniche, perché io vi invito a venire qua per vedere che siamo vicini all'arco felice vecchio, Bobo, non dimenticate questo nome.